Giovani studenti di architettura con al cuore la città di Agrigento sono loro i protagonisti dei progetti di riqualificazione di aree a spazi verde del comune. L'iniziativa ha rappresentato il momento conclusivo di un protocollo d'intesa stipulato dalla Facoltà Agrigentina di Architettura con il comune di Agrigento. Si è avuta cura anche di non spendere molto nel possibile realizzazione. Gli studenti più sono motivati meglio rispondono e in questo caso la motivazione non è altro che il prestigio di poter partecipare a una competizione. C'è un fatto importante che l'università interagisce con la città e viceversa. Il comune di Agrigento attraverso questi progetti si doterà di un parco progetti da realizzare a costo pressoché a zero. Ma la cosa più importante è un'altra che adesso l'università è a servizio del territorio. Non solo produce laureati ma produce pure progetti a disposizione della città. I progetti rappresentano in particolare la conclusione dei corsi di analisi dei sistemi urbani e territoriali del laboratorio di sintesi della Facoltà di Architettura ed hanno coinvolto oltre 50 allievi. Adesso un'apposita commissione esaminatrice analizzerà gli elaborati e nel prossimo settembre procederà alla conseguente premiazione. Dunque i progetti ci sono, adesso si attendono i fondi. L'auspicio è che lo sforzo degli studenti veda la luce nella realizzazione dei progetti.